Contrattatemi, io sono Nino Candela, aspetto una vostra chiamata, una ragazza seria, giusta. Di 50 anni, a chiamare, pure io stesso, non fa niente, pure un pochettino pacchiona, non fa caso, non fa caso, basta che mi telefona e tutte le cose. C'è una bella onesta, giusta, io sono un ragazzo assistemato, giusto, lavoro. Contrattatemi, io sono qua, sono qua. Se volete, sono qua. Io vado cercando una ragazza per sistemarmi, faremo una famiglia giusta, casarmi. Se volete, contattatemi subito, che sono alla vostra disposizione. Giusta, vado cercando una ragazza giusta, nell'aria, manco bella. Puro un pochettino, pure io stesso. La paese, che buona. Va. Se mi volete chiamare, contattate al numero di sotto e io ne rispondo. Avete capito? Sono Candela. Chiamatemi perché non mi devo stare da solo. È una cosa sbricativa che sono qua io. Ciao, ciao. Ciao.